bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Walid e oggi si gioca a Brawl Stars! la 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 beh ragazzi è il primo a dieci è il primo è il primo è il primo è il primo è la parte 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 di ciotola e l'ultima è il primo è la parte è il primo ehi ragazzi fate buona partita così al mare che bruno l'ho messo che bruno l'ho messo allora ci si chiama ma c'è una volta in questa strada forse 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 ma non si trovi ah, non mi piace forse 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 vanno ci al punch 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 ma rinforo campo perché proprio non mi funziona ma io no campo reale no 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 ancora non mi funziona guardate mi sto movendo ma non mi funziona una casa speriamo di trovare una di quelle stellari perché il primo a 10 non lo vorrei ma non lo vorrei per l'anno tantissimo di trovare perché perché quanto è una brava non le troverò mai bravo bravo, 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 bravo ai, morita morita con 44 non ci sono stai 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 ok, non ci opp, hai scompato hai scompato uccidimi maledetto infame uccidimi raga abbiamo una cassa forse forse abbiamo una cassa no, non abbiamo ancora una cassa per l'anno che insegnamento per l'anno qui sono non ci sono di due Dovevo metterlo a bordo, però... Allora, scusate, sto chiudendo la mia cavolo di porta! Cavolo, cavolo da mangiare! Vieni, vieni! No, da là! Ecco il panino! Uno sopra, uno a destra, uno a sinistra! Ragazzi ho scattato, non so come cavolo fatno. Non so come cavolo fatno! Ho scattato della life! Nel male di me, ragaz, non prevedo neinainai, ragazzi! Orchid! Orchid! Arti pezzi, argus, bassa! un altro vento un altro vento perché non mi è partita l'ultimo? perché non mi è partita l'ultimo? si bene almeno 20 minuti inoltre dall'ultimo da è anche scusa dall'ultimo non è che ne ho fatti non? non mi è successo non mi è successo non? non è la mia e la mia oggi è successo un certo non c'è alcune manette un bell'altro come sempre non c'è non c'è più che fare niente faccio un primo partito poi aspetta avveno avete una manetta qui per l'ainte? oi è riuscita l'ainte non c'è oooow è riconita eh? farmi arrabbiare non vuoi non ciò che perché sono gentile non la taglio non la taglio la taglio un po' anch'io un po' anch'io un po' un po' potenziare le si vorrei potenziare proprio le cappare io non giusto mi mancano così tempo un po' come lì due minuti due due un po' che mi mancano da centone per comprarmi il PSC ma la vedo le ali le trovo per terra ma la voce ci speri poi non c'è nessun metodo per lavorare la gemma non ci do per scioccare non c'è più il controllo per aggare un po' adesso posso capire il pezzo non vedo niente toh 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 che fuori ora che sto muorendo sto muorendo sto muorendo amico la bella farsa non vedo niente guarda io sto scegli è bella da si io la uccido sta scegli vado a cosa sua raga comunque io non mi sono più morbido vorrei fare lì è la vita l'ho giocato vediamo per prendere le vecchie ovviamente ah raga l'avete fatto vedere meglio stecco c'è una spiglia verratis l'ho già presa perchè adesso la posso prendere perchè io l'ho già presa però se non avessi presa io la prendo al subito dura 7 giorni quell'ho fatta l'ultima offerta per natale ora non ci sono più l'ho già presa l'ho già l'ho già l'ho già l'ho già l'ho già